...quanto è busato, prima volta in quarta posizione, in quarta posizione a questo punto, all'attacco di Paul Molle, vediamo che di tutto l'interno, è un attacco di Paul Molle, in quarta, è busato, busato, Jimmy, in quarta posizione, Cavalza, c'è questo qua in ogni. ...avevano paura di un contatto, in quanto nella manche, nella prima manche, quando busato, Capotò, rovinando la vettura, pare che un contatto di Paul Molle, l'abbia il nostro inerrore. Intanto Paul Molle passa in terza posizione con la sua, appunto, fianca rossa, all'esordio assoluto, ma è una vettura che ha dei margini di miglioramento, non è...